In Italia ogni anno circa 3.500 donne sono colpite da carcinoma della cervice uterina. Quasi una su tre muore. Dopo quello alla mammella è il tumore più pericoloso per la popolazione femminile. In Puglia ogni anno ci sono più o meno 330 casi con la stessa mortalità, uno su tre. Questo tipo di tumore è causato da una infezione, ossia da un virus trasmesso per via sessuale. Dal 2008 si sta procedendo a vaccinare le adolescenti per tentare di ridurre i rischi. Ed è questo il punto di partenza di uno studio che dal 14 marzo sarà avviato dall'Università di Puglia. Il progetto si è classificato al terzo posto della graduatoria nazionale dei fondi per la ricerca scientifica di base erogati dal Ministero per l'Università. Ha ottenuto 752.000 euro per tre anni. Durante questo periodo 2.000 donne pugliesi che dai pap test effettuati risultano a rischio verranno interpellate per conoscere le loro abitudini e ricostruire la storia del loro male, non più tanto oscuro. I dati ottenuti saranno in futuro comparati con quelli delle ragazze sottoposte a vaccinazione, per fare un confronto. Si capirà così qual è la percentuale di tumori che il vaccino può contribuire ad evitare. Dobbiamo capire se effettivamente questa vaccinazione, quindi nella vita reale, è utile all'eradicazione della malattia. Vaccinando le bambine e le giovani donne e stendendo la vaccinazione anche ai ragazzini di sesso maschile potremmo azzerare i casi e i decessi per questo tumore.